Cosa abbiamo finito? Cosa abbiamo finito? Dio! Facciamo a comprare! Facciamo a provare il franco, non a provare il franco Facciamo a vedere come va! facciamo la prova! La devi provare tutti, non solo tu così, adesso le ho fatte tu! Adesso, quello che dici? Ok! ma potete tenere qua, io basta che faccio un 1.000 ti piace? manco se mi regalano un 1.000 è vero? tirala indietro che è in centri tirala indietro messo le frecce mi porto via tutto indietro? vai Cassi hai vinto ma la porta a due guarda i capelli 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 c'ha parecchio sterzo c'ha no sterzo grazie la colazioncina stamattina taglia bene si Frank squaio buono il prodotto? si? non male non male dai una bella colazioncina ci vuoi sempre guarda i capelli ahahahahaha nooo zone penso inagu No, 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 no Come? Che c'è? No, leggermente Spettacolare, spettacolare!